brava e allora è giano qua è non male no nel senso che non ha via di fuga in te in senso eccolo lì lo sapevo lo sapevo lo sapevo finita finita quindi ragazzi queste erano le mie live reaction della partita ci tengo ad aggiungere due cose la fiorentina ha meritato comunque di vincere il trofeo alla fine pur soffrendo un po nel secondo tempo ma ci stava anche faccio i complimenti alla squadra viola per il successo come ho fatto nel video post partita non ho apprezzato per niente le parole della nostra allenatrice che ha definito poche parole le ragazze che in attacco stanno senza talento e quando hai a luco monasea glion sanderson girelli cantora infortunata si sta riprendendo dici che sei senza talento in attacco e con l'esame di coscienza va fatto ciao a tutti ragazzi al prossimo